Allora, vi avevo detto che avrei approfondito alcune informazioni riguardo questa video-lezione di oculistica di neurooftalmologia. Allora, di che parliamo oggi fondamentalmente? Allora, con neurooftalmologia noi ce l'avamo lasciati con le sindrome chiasmatiche e retrochiasmatiche, tra parentesi le approfondirò più in là perché ho chiesto al professore direttamente di trattare questo argomento, mi odieranno i miei colleghi perché verrà chiesto all'esame, ma siccome esce sempre al test di specializzazione approfondirlo non è male. Quindi diciamo che ci siamo, rimangono gli unici disturbi che sono i disturbi della componente autonomica e del sistema efferente quindi della motilità oculare e così chiudiamo la neurooftalmologia. Sarò rapido. Per il sistema nervoso autonomo oculare, io mi sono riscritto da capo tutto, allora fondamentalmente la pupilla ha una funzione ottica, deve regolare il quantità o flusso di luce che raggiunge la retina e la modifica di quello che è il diametro pupillare è in funzione di una afferenza e di una efferenza. L'afferenza in primis è quello che è il riflesso pupillare detto anche riflesso fotomotore e a livello anatomico questo caro riflesso afferente, pupillare e fotomotore afferente che va quindi alla pupilla, fondamentalmente parliamo di fibre ottiche parallelamente a fibre pupillari che nascono da un primo neurone che si trova nella retina. Da qui le vie ottiche anteriori raggiungono il chiasma, i tratti ottici, questi dovrebbero raggiungere il corpo genicolato laterale, ma una parte di questi cambia strada e diciamo attraverso il collicolo superiore poi raggiungerà i nuclei pretettali del mesencefalo. Da qui fibre che vanno al nucleo di Edgar Westphal, molto importante, saranno due poi le strade che partono da questo nucleo, ovvero le fibre omolaterali e le fibre controlaterali. Le fibre omolaterali andranno direttamente al terzo neurone che è appunto il nucleo di Edgar Westphal che sarà responsabile del riflesso pupillare perché poi queste ultime attraverso i nervi del ganglio ciliare raggiungerà l'orbita e quindi darà il riflesso pupillare. Per le fibre invece controlaterali, queste ultime che raggiungeranno il secondo neurone, poi questo raggiunge il terzo neurone che è di Edgar Westphal, prima di raggiungere il secondo neurone queste fibre controlaterali decussano dorsalmente all'acquedotto di Silvio nella commissura posteriore. Queste fibre controlaterali sono responsabili di quello che è il riflesso sinergico pupillare bilaterale allo stimolo monolaterale luminoso, quindi una lieve contrazione allo stimolo luminoso però sinergica. Ok? E quindi queste sono le afferenze del riflesso pupillare o fotomotore. Le afferenze sono del simpatico che vedremo dopo e del parasimpatico che decorre parallelamente al nervo oculomotore comune, per cui non vi sorprenderete che quando avremo le paralisi dell'oculomotore, che le tratteremo nello strabismo, avremo complicanze di miosi. Perché? Perché il parasimpatico innerva la superficie pupillare, muscolo pupillare, attraverso i gangli ociliari e i nervi ciliari brevi, dando la cara miosi, quindi un restringimento pupillare inferiore ai 2-3 mm. Che cosa fa invece il caro sistema simpatico? Beh, sempre parlando di questo sistema efferente del riflesso pupillare o del riflesso detto anche fotomotore, Fondamentalmente noi abbiamo il sistema simpatico con il suo primo motoneurone, primo neurone scusatemi, che nasce a livello dell'ipotalamo nei nuclei posteriori, quindi vicino ai corpi mammillari. Da lì ci saranno le fibre che passano per la sostanza e la formazione reticolare, arrivano al centro ciglio spinale di Buch tra C8 e T2, da lì un secondo neurone passa alle radici spinali ventrali, risale con i rami comunicanti bianchi, fino quindi attraverso la catena paraspinale simpatica, che è parallela poi a quella che sarà l'arteria sottoclaveare e l'apice polmonare, e raggiungerà con le fibre pregangliari, il cosiddetto terzo neurone, il ganglio cervico superficiale a livello di C2-C3. Da qui poi contemporaneamente alla carotide comune c'è il plesso pericarotideo, la carotide esterna si porterà alle fibre nervose responsabili della sudorazione facciale, la carotide interna parallelamente a queste fibre oculari simpatiche. Queste ultime si separeranno dalla carotide interna a livello del seno cavernoso, saranno vicine al sesto nervocranico labducente, che è poi responsabile dell'innervazione del retto laterale, per un breve tratto, poi si butteranno direttamente nella branca oftalmica del trigemino, e da qui poi raggiungeranno l'orbita attraverso la fessura orbitaria superiore, poi con il nervi naso ciliare e ciliare lungo arriveranno al dilatatore della pupilla e sarà responsabile della midriasi, quindi una dilatazione pupillare maggiore o uguale di 4-5 mm. E quindi con questo abbiamo spiegato un attimo anche questa informazione molto importante. Quindi oltre ai riflessi di pupilla, quindi fotomotori, di miosi, midriasi, abbiamo il riflesso da vicino, che è una triade di accomodazione che aumenta, miosi e convergenza. Il centro di riflesso nervoso da vicino è indefinito in realtà. Il decorso finale è insieme all'oculomotore, quindi molto simile a quello che faceva il parasimpatico nelle vie efferenti del riflesso pupillare, con i nervi ciliari brevi e la miosi. A livello poi quindi delle problematiche pupillari noi possiamo avere condizioni associate o meno a questi riflessi pupillari nervosi, così come abbiamo condizioni centrali che possono creare anomalie della pupilla, condizioni fisiologiche come il sonno veglia oppure traumatiche, quindi patologiche come il coma o l'anestesia. Condizioni periferiche come la prova dei colliri oppure vere e proprie lesioni delle catene nervose. Per quanto riguarda i disturbi pupillari, parliamo dell'anisocoriasi dove c'è una differenza di diametro pupillare di almeno 0,5 mm, bisogna capire se una delle due, quella patologica, la pupilla, è miotica o midriasica, e quindi la prima indagine è il riflesso fotomotore con la luce. In quel caso, qualora al fronte di un riflesso normale in entrambi gli occhi, l'anisocoria è fisiologica. Però bisogna stare attenti perché l'anisocoria può nascondere diverse patologie, potrebbe essere anche per esempio un aneurisma dell'arteria comunicante posteriore o della cerebrale media. Per le problematiche della miosi, la faccio molto breve, perché sono cose che poi verranno rispiegate. Per le problematiche della miosi noi possiamo avere una forma, vi ricordo che la miosi la dà il parasimpatico, quindi possiamo avere una miosi da eccessiva stimolazione parasimpatica, quindi spastica, oppure una paralisi del simpatico, che è controproducente alla miosi dando la midriasi, ma qui è paralitico, quindi non agisce, capito, il simpatico. Le condizioni poi responsabili possono essere anche non neurogene, quindi possiamo avere le care sinecchie iridee posteriori, che sono quelle iridolenticolari, e gli essiti di iridocicliti. Per le varie condizioni poi responsabili di queste patologie, evito di entrare nei dettagli se non ci perdiamo, ma questo solo per darvi un'idea del perché uno abbia quel tipo di miosi. Stesso discorso vale per la midriasi. La midriasi spastica è quando il simpatico è ipericitato, la midriasi paralitica è quando il parasimpatico, che è contro effettore, è paralizzato. Per quelle che sono poi altre forme di patologie pupillari, abbiamo la pupilla di Robertson o di Holmes o la pupilla del coma, queste cose le tratterò più in là, più nel dettaglio. Le patologie del sistema visivo e ferente della motilità. Noi abbiamo quelle che sono le componenti da versione orizzontale, dove la versione è la direzione univoca dello sguardo di entrambi gli occhi e può essere una versione orizzontale o una versione verticale. Ora, i disordini dello sguardo orizzontale sono lesioni o irritative o paralitiche. La paralisi può essere legata a diversi tipi di patologie che bypasserò, perché anche qui si entra molto nello specifico, con condizioni secondo me di neurologia, così come anche le paralisi delle versioni verticali. Idem per l'oftalmoplegia internucleare. Per il nistagmo invece, il nistagmo che cos'è? Perché l'abbiamo sentito diverse volte. È un'oscillazione ritmica involontaria dei globi oculari, per lo più binoculare, raramente monoculare. Ora, noi dobbiamo identificare in primis se siamo di fronte a un nistagmo fisiologico o patologico. Quello fisiologico è evocato dalla rapida rotazione della testa, dall'istillazione nel canale uditivo di acqua fredda, quindi quello è il nistagmo vestibolare, o dall'osservazione di un cilindro ruotante a strisci bianche e nere, che è quello optocinetico. Adesso, il nistagmo quindi fisiologico, diciamo, a parole molto semplici è questo. Invece, quello patologico osserva come regola generale un nistagmo persistente in presenza di una buona visione e con una disfunzione del tronco encefalico. Questo può essere poi diviso a sua volta in un nistagmo dell'infanzia o un nistagmo congenito, oppure appunto un nistagmo pendolare o a scosse acquisito. E anche qui non entro troppo nei dettagli con i vari tipi di nistagmi. Poi abbiamo le problematiche delle vergenze e non delle versioni, cioè di quelli che sono i movimenti disgiunti degli occhi. Anche qui possiamo avere paralisi di convergenza o paralisi di divergenza, ma queste problematiche verranno affrontate molto meglio a neurologia e in parte parlando dello strabismo. Quindi, chiudo qui questa video lezione, diciamo molto con cenni di neurooftalmologia, e faremo eccessivi approfondimenti, eccessivi, ripeto perché sono cose affascinanti, più in là. Vi auguro un buon studio.